È diventato un disco rotto il nostro buon Andonio, sì sì sì, un disco rotto. Sentite, sentite qua, ve lo faccio sentire che è fantastico. Possiamo anche essere orgogliosi di questo perché in un anno essere considerati più competitivi anche nei confronti di squadre che vengono da un dominio assoluto in Italia significa che stiamo facendo qualcosa di straordinario. Sì sì sì, sempre, da un anno, in un anno stiamo facendo qualcosa di straordinario giusto per come al solito dare un po' di merito al suo lavoro, ma giusto un pochettino prima l'Inter forse non neanche esisteva negli almanarchi di calcio, è arrivato lui, l'Inter è diventato cioè è il sole, è sempre lo stesso, sempre lo stesso, disco rotto, cerca sempre di proteggere il suo operato e ancora una volta solite domande e solite risposte. L'Inter rispetto agli altri anni subisce molto meno, non ha mai subito così poco, mai, eppure prendiamo gol in questo momento, prendiamo gol. Praticamente è solo sfiga. Se l'Inter in questo momento si trova ultimo in Champions e si trova al settimo posto va bene che la classifica della Serie A al momento veramente conta pochissimo ma se l'Inter ha i punti che ha, è solo per la sfiga, è solo sfortuna, perché l'Inter subisce di meno e crea tanto, quindi non ci sono altre ipotesi, è solo sfiga, in questo momento c'è solo la sfiga. Ascoltate la conferenza stampa perché altrimenti dite no, ma Nesco sei tu che ogni volta vuoi sempre forse buttare benzina sul fuoco. No, io ascolto l'intervista, ascolto le conferenze, è sempre la stessa minestra, sempre la stessa zuppa, sempre lo stesso sapore, sempre, 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 sempre. La squadra c'è nelle prestazioni, non c'è nei risultati, sono i risultati poi che giustamente ci fanno vedere se il midiero è mezzo pieno o mezzo vuoto, ma le prestazioni come al solito ci sono sempre, 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 sempre la solita, la solita, come si dice, la solita lagna, la solita, sempre le solite cose, nulla, veramente, di nuovo. Detto questo, le continue domande su Ericsson. Andiamo su Ericsson perché una domanda che ci facevamo un po' tutti è quella di si può vedere questo giocatore come playmaker basso davanti alla difesa, allapirlo, per intenderci, completamente bosciato. Perché? Perché, parole ovviamente di Conte, Ericsson c'è un punto di forza, il calcio, di destro, di sinistro, se tu lo metti davanti alla difesa gli privi del suo punto, del suo punto di forza. Questa è la, è la, è la risposta del, del nostro coach, del nostro allenatore. Allora, io, io, sapete come appena, io penso che il punto di forza di Ericsson sia la fantasia, sia, sia la, come posso dire, appunto, il fatto di dovere in qualche modo svariare e non essere soggetto a dei limiti tattici o comunque non, non è, predisposto per, per la rottura del gioco, ma semmai per, appunto, per la, come si, la proposta. Paradossalmente, per come sta giocando l'Inter, per come, tra virgolette, le squadre comunque, più delle volte quando ci affrontano, cercano ovviamente di, di chiudersi, vedi Genoa, vedi Parma, cercano ovviamente di, di difendersi. E, e, e lì, quello alto, solitamente, a pochi, a pochi spazi. Ericsson, quante volte ha calciato verso la porta? Ha avuto poche, poche possibilità di farlo, perché lì sei imbrigliato. Paradossalmente, secondo me, se parti da dietro, hai più facilità, vedi lo stesso Brozovic, vedi lo stesso Brozovic, hai più possibilità se parti da dietro, perché, perché gli avversari, se ti difendo a un basso, tu hai più possibilità di andare a, al tiro, se parti dietro. Mi sembra che Andrea Pirlo, quando gioco a basso, qualche gol, lo fece, lo fece lo stesso. Quindi, io credo che, questo sia, una, cioè, un motivo non, non valido. Un motivo non valido. Se tu mi dici che non ha le caratteristiche tecniche per farlo, o tattiche, ci sto, ma per il tiro proprio, proprio non, non credo sia, sia questo il, 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 il motivo, il motivo valido. E poi, se ha destra e sinistra, ancora meglio, perché se dietro hai ancora più facilità di, di, di manovra, di velocizzarla nel momento in cui hai un giocatore che sia col sinistro che col destro ti passa velocemente, tranquillamente la palla e magari non la deve spostare sul piede, sul piede forte, è un plus, è un, è un di più. Quindi, onestamente, mi sembra, boh, non lo so, perché, ovviamente, lui e lui l'allenatore, io sono un semplice tifoso, ci mancherebbe, non è che mo qua ci crediamo superiore agli altri, però, questa, questa è la, è la mia visione. E, e detto, detto questo, Ericsson, le occasioni le, le ha avute, ha giocato molto di più rispetto ad altri, ha detto, e quindi mette, mette le mani avanti anche sul, sul, sul suo operato. Niente, ragazzi, per il resto che c'è da dire? Non c'è niente da aggiungere, finalmente si ritorna. Speriamo bene, guardiamoci, guardiamoci queste, queste giornate che ci attengono, perché adesso sarà un, un turbinio di, di emozioni. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, hackate, se vi va, perché no, iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio, da Neschio.